Ciao a tutti, benvenuti o bentornati per il consueto video serale sull'angolo di Seidori che si sposta alle 17.30 nei giorni feriali e alle 15.30 il sabato, la domenica e nei giorni che non siano sabato e domenica ma che siano festivi. Oggi parliamo di idee regalo, se mi seguite sui social sapete che fin dal mese di novembre ho iniziato una rubrica diciamo che ho postato sui miei social Instagram Stories e Facebook la pagina, mi trovate su Instagram come Seidori e su Facebook come l'angolo di Seidori e in questi due social ho postato ogni giorno un'idea regalo a prezzo wow quindi praticamente un'idea regalo che avesse un costo diciamo intorno massimo ai 20 euro quindi ce ne sono state anche tante molto più basse di 20 euro e ogni giorno la postavo sulle Stories e sulla pagina Facebook quindi se andate sulla pagina Facebook le ritrovate tutte perché ovviamente nelle Stories spariscono. Anche nel sito l'angolo di Seidori.it ho postato tantissime idee regalo da quelle di un costo medio alto fino a quelle a costo veramente basso quindi anche lì se avete ancora dopo aver visto questo video voglia di sbirciare su altre idee regalo potete andare a vedere se vi va i contenuti che ho postato sul sito. Nel caso vi lascio qua in infobox un elenco degli articoli che magari possono essere interessanti da questo punto di vista sono veramente tantissimi abbiamo parlato di makeup di skin care veramente un po di tutto e altri probabilmente ne arriveranno perché oggi è 11 di dicembre diciamo che ancora una 20 una scusate decina di giorni buona c'è per magari cercare le ultime del regalo oggi però volevo fare un video qua sul canale che racchiudesse qualche idea tra quelle che ho ricevuto ne ho ricevuto parecchie qualcosa uno o due cose credo di averle comprate anche io e ho ricevuto quindi parecchie cose come sapete i brand mi mandano le loro le loro idee ma ho voluto non fare troppi video di questo tipo mi sono un po più concentrata sulle idee spot da pubblicare appunto sui social e sul sito e oggi volevo racchiudere tra tutte le volevo fare un video che racchiudesse tra tutte le cose ricevute quelle che mi sembrano innanzitutto parecchie ad un prezzo buono perché i tempi sono quelli che sono e non penso insomma che tante di noi abbiano la possibilità di fare molti regali a prezzo insomma bello ingente magari ai familiari più stretti o anche magari perché no un auto regalo ce lo meritiamo dopo tutto un anno magari di lavoro quindi oggi vi racconterò per la maggior parte idee che abbiano un prezzo abbastanza contenuto ma diciamo che iniziamo da quelle più low cost e andiamo a quelle più costose allora inizio proponendovi diciamo confezioni che hanno spopolato quest'anno in tutti 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 i brand chiunque ha proposto le caramelle i cracker quelle praticamente confezioni che hanno questa forma di caramelle che si aprono tirando qua ai lati e contengono di solito delle mini taglie ce ne sono veramente di tutti i gusti per tutti i gusti per tutte le tasche ma di regola hanno un prezzo contenuto sono carine si presentano bene già di per sé sono un'idea regalo cioè sono scusate una confezione regalo che non ha bisogno di essere impacchettata se volete magari potete aggiungere dei nastrini qua ma niente di più quindi vanno benissimo anche per coloro che non sanno fare i pacchetti e all'ultimo momento hanno bisogno di andare a comprare un regalo e magari consegnarlo subito al festeggiato diciamo e quindi sono un'ottima idea ripeto poi spesso hanno delle mini taglie dentro e quindi sono anche un buon acquisto per provare delle novità e io vi propongo quella di mark jacobs mark jacobs è un marchio che a me piace molto lo trovo molto raffinato molto adatto se vogliamo anche alla mia fascia di età trovo che per una donna che abbia un 30 40 anni inizia a essere veramente un brand più adatto di altri perché lo trovo molto elegante molto raffinato insomma meno bambinesco di altri anche se quest'anno mark jacobs è dato da fare vedete con le fantasie animali e quindi ha fatto delle confezioni belle impattanti questa è veramente carina si chiama the sex kitten costa veramente poco perché sono solo 17 90 e contiene la mini taglia del mascara che ottimo è uno dei rossetti nella colorazione se non sbaglio slow burn se non se non sto dicendo una si slow burn c'è scritto proprio dietro quindi questa trovo che sia per esempio un'ottima idea regalo quindi per magari un regalo che sia di make up se invece volete fare un regalo sulla skin care ad un prezzo extra piccolo perché qua siamo a 15 90 me lo sono segnato e per una amica sorella madre qualcuno che insomma si interessi di skin care soprattutto di brand coreanni che ormai sono quelli che se dobbiamo regalare qualcosa di skin care io suggerisco di puntare su quelli perché sono un po come sappiamo l'ultimo trend infatti di skin care questo è to cool for school magari dritto eccolo qua to cool for school che ha fatto questo holiday egg essential cracker è praticamente anche in questo caso una caramella e contiene delle mini taglie c'è dentro una schiuma detergente viso da 30 grammi un tonico da 30 sempre ml una crema viso da 15 una crema corpo sempre piccolina il prezzo è veramente super accattivante 15 90 è molto difficile trovare qualcosa di carino a questo prezzo quindi direi che per i regalini quelli dove non andiamo a spendere tanto è veramente un ottima quanto riguarda poi regali a basso prezzo vi consiglio un brand che molti di voi conoscono è che devo dire negli ultimi anni sto conoscendo grazie al fatto che ricevo delle cose del brand queste cose le ho ricevute e ho la possibilità di provarle moltissimi dei loro prodotti mi piacciono davvero tantissimo e hanno veramente molte idee regalo molto molto abbordabili sono dappertutto perché veramente in tantissimi centri commerciali trovate i brochets c'è il sito online e moltissime sono anche le ragazze che fanno come sapete le presentatrici brochets quindi sono idee reperibilissime per un pensierino secondo me molto gradito la candela piace a tantissime informatevi perché sapete che ci sono proprio le appassionate di candele questa è veramente profumatissima devo dirvi che io non l'ho accesa che va la volevo mostrare intatta ma non mancherò di farvi sapere nei prodotti finiti se questa candela mi è piaciuta ad ogni modo un prezzo veramente interessante perché sono soltanto 9 99 ha un estetica molto bella molto candida appunto è tutta bianca e alla vaniglia bianca e quindi secondo me è un'idea di natale molto carina che magari potete accompagnare che so con un pacchetto di cioccolatini di caramelle legate tutto insieme con un bel nastro ed è insomma qualcosa da poter regalare spendendo poco quindi 9 99 ci sta tutto sempre di libro c'è altre due idee carine che magari secondo me si possono regalare insieme magari a una persona del quale non conoscete perfettamente i gusti in fatto di makeup o in fatto di skin care andare sui prodotti per esempio come le creme mani o i saponi profumati direi che non si sbaglia o anche magari per una nonna che magari non non usa più il makeup la skin care insomma molto basica però le creme mani e le saponette profumate anche soltanto da inserire nei cassetti della biancheria le nonne le apprezzano sempre e questi tre saponcini e queste creme mani sono quattro creme mani sono una la nocce di cocco una all'olivello spinoso se non sbaglio e olio d'oliva una al mango coriandolo e una alla vanilla barbon sono veramente carine e ognuna scusate che guardo è da credo 30 ml sono da 30 ml e il costo delle cremine per le mani è 9 95 le saponette non ricordo però penso sui 5 euro massimo e quindi secondo me questo regalo da mettere tutto insieme è carino va calibrato cioè è come ogni cosa evitate di regalare il makeup a chi non si trucca la skin care a chi non è interessato o questi regali a chi è particolarmente magari trendy questo è un regalo un po più classico o insomma un pensierino per una persona che non conosce di cui non conoscete bene i gusti soprattutto magari regalare le saponette e le creme sono un regalo molto più classico secondo me quindi magari non proprio alla ragazzina super trend anche quest'anno secondo me rimmel è stata furba ha proposto delle belle cosine sempre a prezzo ottimo perché questi kit costano 12 euro e rotti io li ho visti al simpli ad esempio però sono sicura che li possiate trovare veramente in tanti punti vendita a tutti quelli insomma rivenditori che hanno ovviamente rimmel nel nel nella fattispecie trovo che il prezzo sia molto contenuto per ciò che propongono cioè una del deliziosa pochette vi faccio vedere quella che si chiama quello che si chiama kit wonderful real l'anno scorso mi erano piaciute quest'anno mi sono piaciuti ancora di più la pochette secondo me è bellissima penso forse di avervela mostrata adesso mi sta niente il dubbio beh comunque ve la ripropongo perché secondo me è veramente figa questa pochette si può utilizzare tranquillamente d'estate perché secondo me è molto estiva come come idea vedete le righe bianca e blu è il dorato ed è una pochettina che si apre così alla zip quindi per l'amica assolutamente trendy vedete in questo caso attenta alla moda è molto carina anche perché poi dentro ci sono due prodotti il mascara che io non ho ancora provato ma del quale ho sentito ottime recensioni e la matita nera anche qui andate molto tranquille sul contenuto tutte usano la matita nera e il mascara cioè proprio non c'è dubbio un rossetto di un colore di un altro può non piacere sul makeup occhi non ne parliamo c'è chi non usa gli ombretti e soprattutto i colori sono molto personali mascara e matita nera non lasciano proprio spazio a errore questo qui appunto il wonderful real wonderfully real ve l'ho già detto quindi secondo me il prezzo è super perché al 12 euro e rotti credo 12 euro e 50 o 12 euro e 90 di regola ci comprate forse il mascara quindi una confezione che si presenti bene a livello di scatolina che è impacchettabile e carina la pochette è in più insomma anche matita direi che è un regalo azzeccatissimo però ce ne sono anche altre ne ho visto anche una sul viola ma a me questa era quella che piaceva di più quindi sono contenta di aver ricevuto questa perché la pochette mi piace proprio tanto salendo di prezzo ho un regalo che vi consiglio di fare ma in questo caso informatevi magari una persona più vicina a voi una sorella un'amica cara che del quale conoscete le abitudini questa l'ho comprata io è sicuramente un acquisto che ho rifatto per il secondo anno proprio perché l'anno scorso l'avevo fatto mi ero trovata molto bene si tratta dell'agenda parlo dell'agenda di mister wonderful che sicuramente vi ho già nominato ma ve la rinomino perché è un acquisto che costa poco sui 20 euro errotti credo 22 euro circa questa quella giornaliera credo che la settimanale costi anche meno ma perché vi dico che dovete conoscere bene la persona dovete sapere se è una persona da agenda non tutti usano l'agenda dovete capire che tipologia preferisce se la settimanale o la giornaliera e soprattutto se ha uno spirito un po così bambino inside perché è un'agenda un po simpatica è un po pucciosa piena di adesivi piena di pagine decorate agli sticker adesso apro in fondo vedete alle pagine tutte decorate così in maniera se vogliamo anche un po infantile piena di sticker quindi se magari la dovete invece regalare alla collega seriosa l'amica seriosa quelle che preferirebbero magari una file o fax in pelle con le pagine tutte bianche e che non si lanciano diciamo in pucciosità non è adatta quindi ecco anche qua è come però penso per ogni regalo bisogna calibrare bene e vedere a chi si sta facendo il regalo salendo di prezzo non posso che menzionarvi come altro brand nel quale trovare una miriade miriade di regalo bottega verde sapete che collaboro con bottega verde da qualche anno mi trovo molto bene con alcuni loro prodotti tanto proprio lì apprezzo anche la direzione che hanno preso di cercare di produrre dei prodotti del sempre più con inci derivante da prodotti naturali io non sono un'esperta lo capirete anche da come me lo sto ne ne sto parlando però vedo che anche le ragazze che si occupano di prodotti bio prodotti ecco bio inci verde eccetera mi hanno detto che la linea è anche da questo punto di vista molto più comperata dalle persone appunto che badano all'inci quest'anno ricevuto varie cose ma ho visto anche il catalogo è come al solito strazeppo di idee quindi se avete un budget contenuto per idea regalo e vi piace regalare delle cose profumate bagno schiuma latte corpo creme mani latte scusate creme viso insomma dei prodotti di skin care e se non volete andare proprio sulla crema viso che è piuttosto personale però ci sono delle latte molto carine con le creme quelle iconiche di bottega verde la retinolo la yaluron plus delle latte con tipo celebrative delle creme iconiche di bottega verde che magari potrebbero essere perfette per la mamma se invece volete andare su prodotti profumosi ci sono un sacco di idee per esempio la palla che secondo me troppo bella perché è proprio un decoro già in sé per sé di natale vedete bella grossa ed è una palla di metallo che contiene dei prodotti questa credo che costi 24,99 o 24,90 e conteneva un prodotto che sto già utilizzando non è questo ne ho un altro in bagno che avevo ricevuto così singolarmente perché questo è venduto anche singolarmente credo che costi su 4 euro perché sono tutti scontati i prodotti ed è bacio sotto il vischio che è praticamente vischio e cannella ed è stra buono ma veramente stra buono è una fragranza super natalizia ma è veramente ottimo ragazzi poi i prodotti sono buoni in sé per sé cioè proprio si sente che bagno schiuma è ottimo vi lascia la pelle morbida che non è di quelli super aggressivi però si presenta proprio bene cioè guardate che bello anche il nome bacio sotto il vischio è super adatto dentro c'era quello c'era la latte corpo e il burro cacao esatto e mi pare basta no no c'era anche una mini size di crema umani quindi direi 24,99 quattro prodotti di cui tre full size è una mini size è un ottimo prezzo peraltro come vi dicevo le idee regalo partono veramente da prezzi mini ad esempio 2,99 per le palline di natale che possono essere assolutamente un qualcosa in più da aggiungere magari avete già fatto un regalo vi sembra un po troppo misero o volete arricchire la confezione regalo legate uno di questi al pacchetto e sono praticamente dei bagno schiuma da 100 ml nelle fragranze super natalizie che fanno ogni anno cioè fragranza della fortuna essenza di gioia è appunto bacio sotto il vischio bacio sotto il vischio è cannella e vischio poi c'è vaniglia quello alla vaniglia e l'altro è mela caramellata quindi super super natale ancora un'altra confezione sempre nelle latte è quella della lanterna vedete che ha tutti i buchini perché qua poi ha una pellicola che chiude perfettamente la confezione ma che voi potete rimuovere e questa diventa una lanterna perché c'è dentro la candelina quindi mettete la candelina qua dentro e quando la accendete si rischiara tutta perché è una lanterna appunto e questa che ho ricevuto io è al peperosa io ho già ricevuto l'anno scorso delle cose al peperosa mi piace moltissimo ho appena terminato il bagno schiuma e c'è la crema mani che questa è in full size peperosa appunto e vaniglia la ho detto alette avevo ricevuto l'acqua profumata mi piace moltissimo la uso sempre quindi in questo caso ottimo che ho ricevuto l'acqua scusate il profumo questo è da 30 ml sono anche molto pratici da portarsi dietro per chi come me non sente più il profumo durante la giornata se sto fuori tutto il giorno tipo quando lavoro in rinascente mi porto dietro le mini sites così perché in borsa sono più comode e magari durante la pausa pranzo io di regola vado a mangiare mi levo il rossetto come sapete pranzo vado a lavarmi i denti mi riapplico il rossetto mi rimetto il profumo e quindi mi porto sempre dietro quelli piccolini e poi c'era il burro cacao quindi pepe rosa e la lata anche questa credo abbia lo stesso prezzo vedete poi loro ve la danno con la candelina io l'ho già accesa però la volevo ve la volevo far vedere quindi ho detto no non la finisco così insomma ho anche la possibilità di mostrarla e questa è a sempre lo stesso prezzo 24,99 invece questo è 12,99 sono le confezioni quelle duo che hanno il latte corpo e il bagno schiuma questo è appunto fragranza della fortuna che è quello al sapore di mela caramellata quindi insomma anche bottega verde ha una miriade di cose salendo di prezzo se volete fare un regalo o un make up vi consiglio di andare su cose basiche in questo caso sui 27 euro io ho scelto tra le cose ricevute la palettina di Too Faced perché è pratica quindi insomma è una di quelle cose che sicuramente verranno gradite perché regalare palettone giganti a persone del quale non sapete i gusti magari sono quelle che si portano dietro la pochettina in ufficio e si truccano strada facendo hanno bisogno quindi di un qualcosa che abbia un pack super compatto e questo lo gradiscono tutte l'altro no e soprattutto regalare palettone come per esempio quelle bellissime che sapete sono le mie preferite del momento Huda Beauty, Nabla, la Naked Heat, la Anastasia Beverly Hills sono palettes molto particolari da regalare a persone del quale conoscete veramente bene i gusti perché contengono colori particolari, contengono un sacco di shimmer, contengono glitterati che non tutte usano, non tutte apprezzano e anche poi sono palettes che hanno un certo costo quindi sicuramente sono regali da fare a colpo sicuro all'amica carissima del quale sapete insomma i gusti che sapete che desidera quella determinata paletta o alla sorella o alla mamma però se dovete fare un regalo a una persona che non conoscete benissimo e sul quale volete puntare in maniera più sicura vi consiglio una palette di questo tipo ossia una palette matte innanzitutto che sono colori sempre graditi a tutti basici che sono quei colori che tutte quante utilizziamo e soprattutto compatta il costo poi è contenuto perché siamo sui 27 euro ha un odore meraviglioso anche questa si è proprio buono però non è nauseante perché se ha troppo odore di cioccolato a me non piace si presenta molto bene, molto carina ma devo dire che secondo me questa è molto a prova di non errore quindi ve la consiglio assolutamente ed è la matte chocolate chip siamo sui 27 euro poi per quanto riguarda sempre i cofanetti, skin care eccetera salendo un po' di prezzo qua siamo sui 29,90 vedete e in questo momento è scontato perché nel suo prezzo sarebbe 35,50 ma la maggior parte delle farmacie appunto dei punti vendita dove potete trovarla l'hanno messo a 29,90 ed è un kit molto carino perché partecipa all'iniziativa della fondazione Teleton quindi se dovete regalarlo a una persona che sapete che è magari impegnata nel sociale è attenta anche a queste cose è un regalo che è anche buono il che non guasta affatto ed è un cofanetto della Hotermal di Aven per il programma idratazione, detersione viso e occhi quindi anche in questo caso sono dei prodotti che potete regalare a colpo sicuro perché utilizzati da tutte regalare un antirughe per esempio non va bene se non conosciete bene una persona se non avete confidenza una mamma, una sorella, una cara amica lo si può regalare ma se no diventa un po' stonato come regalo invece qua abbiamo la lozione micellare quindi una lozione struccante che tutte quante assolutamente usano e la crema idratante peraltro con protezione UV SPF 20 e la trousse quindi direi veramente un regalo carino e sono la crema da giorno da 40 ml quindi probabilmente è la full size che produce Aven la full size di regola per molte case è 50 ma evidentemente Aven la fa da 40 adesso ve la mostro e la lozione micellare è full size proprio da 200 ml ve la faccio vedere questa è la pochettina super basica quindi anche qui a prova di non mi piace l'acqua micellare è questa qua e questa è appunto la full size della crema idratante scusate con SPF vi volevo dare qualche info in più per quanto riguarda l'iniziativa Teleton tutte quante credo che conosciate Teleton l'iniziativa si chiama con tutto il cuore e acquistando il set si donerà un contributo alla ricerca promossa da Teleton nell'ambito delle malattie genetiche rare quindi insomma direi che è molto carino credo che ci siano anche altri cofanetti oltre questo ci sono l'indispensabile donna con i trattamenti viso e corpo in formato viaggio quello uomo quelle con le creme più adatte appunto a problemi scusate a pelli di una certa età quindi magari vedete se dovete regalarlo alla mamma potete farlo il programma rasatura uomo insomma ce ne sono vari credo che siano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 varianti quindi insomma c'è veramente un'ampia scelta concludo con l'ultima idea regalo che è un regalo più costoso di tutti vi avevo detto che ci saremo diretti diciamo dai più low cost verso le fasce più alte di prezzo insomma sono voluta rimanere entro i 50 euro quindi magari è il regalo più grosso da fare alla persona per il quale magari si è destinato il budget maggiore se questa persona è un amante dei trucchi probabilmente avete tante idee diciamo truccose perché se seguite il mio canale è ovvio che voi lo amate e magari anche chi vi circonda avete delle amiche che hanno le vostre passioni un'idea diversa dalle solite può essere regalare lo Steel Pro lo Steel Pro è quell'aggegio del quale si è tanto parlato presentato quest'anno al Press Day di Sephora come appunto una delle grandi novità non sto ad aprirlo perché è composto da veramente un po' di pezzi faccio fatica però vi faccio vedere la figura vedete è questa bull nel quale si infila il pennello tenuto appunto da un supporto il pennello praticamente viene immerso in questa soluzione che è compresa che poi può essere anche ricomprata a parte e viene lavato e asciugato in soli 30 secondi anzi ditemi se vi può interessare adesso cerchiamo di aprirlo è durissimo vi può interessare un video dimostrativo lo mettiamo alla prova e vediamo come funziona vedete che dentro ha tutti gli aggeggi è un po' caro devo dire però se dovete fare un grosso regalo o se lo volete come regalo dal vostro fidanzato gli piazzate la foto dello Steel Pro e quindi magari guidate ecco qua vedete ci sono tutti i pezzi questo è quello su cui si fissano i pennelli il supporto e questa è la bull dentro il quale il pennello viene immerso se poi lo volete vedere all'opera vi ricordo che sul canale trovate il video del Press Day di Sephora magari ve lo lascio in info box dove proprio c'era l'inventore lui in persona di questo aggeggio che lo mostrava e io ho ripreso e ho filmato il momento in cui lui lo utilizza vedete le settore si aprono completamente così il pennello rotea a una velocità bella intensa e si lava e si asciuga in 30 secondi quindi 49 euro ecco qua invece altra figura dove vedete l'aggeggio che tiene appunto il pennello perché poi il pennello venga inserito è fatto roteare all'interno della palla l'avante ragazzi questo era tutto io spero che il video vi sia stato utile erano un po' di idee regalo se avete delle idee sulle idee regalo nel senso che ne volete altre volete dei regali mirati a un certo tipo di persona volete parlo di video ovviamente dedicati alla tematica idee regalo fatemelo sapere datemi dei suggerimenti Silvia fai questo video Silvia fai quest'altro video riguardo alle idee regalo e io magari cerco di studiarmelo e di realizzarlo nei prossimi 10 giorni io spero quindi che questo vi sia stato utile vi sia piaciuto ci vediamo domani con un nuovo video nuovo orario 17.30 vi mando un bacio ciao ciao